Fai dei Reel e hai poche interazioni. Ecco i 5 errori più comuni. Intanto è importantissimo catturare l'attenzione nei primi 3 secondi. 2. Il tono di voce deve essere assolutamente alto e non Ciao ragazzi, sono Marco Anelli e quindi... No. Ciao ragazzi, sono Marco Anelli! Questa è la voce da utilizzare. 3. Non utilizzi la musica di tendenza. 4. Video troppo lunghi e lenti, lenti, no, devono essere dinamici. 5. Nel finale, ovviamente, call to action. Fate rivedere il Reel che ho fatto precedentemente. Ovviamente devi avere l'argomento, quindi la cosa più importante è qual è l'argomento e qual è il pubblico. Queste erano le mie 5 tips, mi raccomando, fai un bel tap tap sul telefonino, metti un mi piace, salvalo così lo potrai sempre rivedere e seguimi per le altre. Ciao! Grazie. 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 Grazie.